Un viaggio che è anche il segnale forte e preciso della volontà di mettersi in gioco e di cambiare vita. Cristian Moroni, con la sua splendida cavalla Furia di 16 anni, stanno attraversando il perimetro dell'Italia e dopo aver percorso già 2200 km, sono arrivati al Lido di Venezia. Tanta era la paura di continuare a fare lo stile di vita che facevo. Ero terrorizzato e mi chiedevo, ma io posso rimanere tutta la vita a fare quello che stavo facendo? Era una cosa che non mi dava soddisfazioni. Mi alzavo la mattina e non ero felice. Qui non ho detto, cambiamo vita. Ho lasciato tutto, ho chiuso nel passato, mi sto portando dietro degli strascichi che piano piano sicuramente dimenticherò, tranne che mia madre. Una storia questa di perfetta simbiosi tra uomo e animale. Il Circo Lippico Venezia Lido, con il presidente Roberto Teso, l'istruttore Fabrizio Lazzarotto e la numero uno della Proloco dell'IDA per il Tina Barbara Pitteri, li hanno accolti con gioia e dato loro un riconoscimento. Il Circo Lippico di Venezia Lido è stato contentissimo di ospitarci. Purtroppo mi sono contagiato, quindi la mia quarantena e il mio isolamento l'ho fatto qui a Venezia Lido ed è stata una sorta di vacanza. E fortunatamente, ringraziando il signore, siamo ritornati a essere negativi. E ora, superato anche il Covid, pronti a ripartire, più forti che mai. Oggi siamo pronti per ripartire in direzione Ravenna. Grazie a tutti.